parti tu parto io allora ragazzi ho qua palline che mi sto facendo le fusa allora questi qui sono intrati d'occhi squishy questo qui l'avevamo già aperto sì quindi restiamo in tema animale e c'è quest'altro che è l'altra versione pappi d'occhi squishy allora qui ci dice strapazzali antistress super soft questo che assimilia a yummy beer chica 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 boom sono della chica boom quindi esplodono qua c'è ripresa lentissima che abbiamo visto che non è vero super soft e kawaii troviamo oddio oddio ma cosa sei una sirena no puzza però bucca miseria la miseria tanto ragazza sei peggio di una zingara lati oddio ripresa lentissima anche no no ottima una sirena che carina ascolta dopo gli vai mettere il balsamo che pensa andiamo a vedere l'altra l'unicorno eccola lì pallina che guarda scaggiata questo ha un odore diverso ti pensa se non li prendevo tutti e due io eh oddio che ballo devi dire grazie marco per averne presi due guardate ragazzi squishy battle ti ho più lento la sirena è un po' più c'è un po' più di ripresa c'è un ritmo migliore questa puzza tanto i giocatori corrono di più e quindi il ritmo migliore oddio è bello l'unicorno unicorno è contenta semplicemente per quelle corno sulla testa con le ali verdi che non è che mi piacciono molto ma carino no vabbè super felice super felice con unicorno e la sirena no vabbè bellissimo benissimo noi siamo sono contento perché aver trovato quello che vuole diteci quale fra due cipi piace di più così a occhio a mia impressione dico che l'unicorno è migliore della sirena esatto e niente alla prossima ci vediamo alla prossima ciao